Ufficio di una conceria a fuoco ad Arzignano. L'allarme di un operaio evita il propagarsi dell'incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti in via della Concia per l'incendio appunto divampato all'interno di un ufficio di un'azienda conciaria. A dare l'allarme un operaio che si trovava all'interno della ditta ha notato le fiamme. L'immediato intervento dei pompieri arrivati dal locale di staccamento ha consentito di spegnere rapidamente il rogo evitando il coinvolgimento della conceria stessa. E' andato invece completamente distrutto l'ufficio di circa 30 metri quadri con tutto il suo contenuto. Fumo nell'area produttiva della conceria. Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.